Allora figlioli, ho seguito il consiglio di mia sorella che mi consigliava di andare in questo posto, qua in Valpolicella, sono in provincia di Verona intanto ascoltate, dove c'è questo ponte tibetano, ho parcheggiato la macchina, non mi ricordo dove perché io cretino, non ho messo il puntatore sulle mappe, quindi io praticamente adesso invece di salire su questo ponte io continuo a scendere in questa vallata qua, allora finché c'è bel tempo ok, magari riesco anche a trovare la via di ritorno, nel caso perché io mi presento a fare un'escursione con un paio di scarte da ginnastica normale quando c'era scritto sui vari cartelloni che era una difficoltà di escursione media, io non avendo mai fatto un'escursione nella mia vita giustamente me ne sbatto, va bene. Nel caso andasse tutto male, qua mi faccio le corna, chiedo scusa a tutte le persone alla quale ho fatto del male, chiedo scusa a chi ho tradito e a fanculo di mio amico, va bene ragazzi